Salve, sono Luca di Nordest Prati, ci troviamo oggi nel nostro vivaio che si trova a Sandona di Piave, in provincia di Venezia, dove coltiviamo tappeto erboso in zolla di diverse varietà su una superficie di 35 ettari. Da cinque anni abbiamo iniziato anche a produrre delle piante coprisuolo che facciamo con lo stesso formato della zolla del prato, affinché si possono avere risultati di pronto effetto anche con piante coprisuolo, come si fa con il tappeto erboso. Oggi faremo una dimostrazione di posa della Convallaria Nana, o Fiopogon, che è una delle essenze che produciamo in zolla. Come potete vedere non sono vasi, sono zolle già formate e mature che si possono mettere posate una presso l'altra per un risultato di pronto effetto. Inoltre vengono consegnate ai clienti finali su pallet e su cassette sovrapposte affinché le piante non subiscono alcun tipo di stress durante il tragitto. Un'altra essenza che produciamo in zolla molto interessante è la vinca Minor, questa ha una fioritura azzurra e anche questa in zolla per un risultato di pronto effetto. Queste zolle sono molto facili da posare, si riesce ad avere subito un risultato finale. Una volta eseguita la posa basterà eseguire un'irrigazione abbondante e alcune leggeri irrigazioni per 4-5 giorni associativi alla posa per far sì che la pianta possa aderire al terreno e diventare un tutt'uno con esso. La cosa interessante è che usando le zolle pronte come potete vedere si ha un risultato immediato e non si deve attendere mesi come quando si usano le piante in vaso.